Si svolgeranno il 28 settembre come conseguenza della legge del Rio le elezioni di secondo livello per il rinnovo dei presidenti delle province di Chieti, Pescara e Teramo e dei consiglieri provinciali, 12 per ogni assise, che guideranno questi enti. I comizi saranno convocati entro il 19 agosto, come hanno annunciato Enrico Di Giuseppe Antonio, Guerino Testa e Walter Catarra, rispettivamente presidenti di Chieti, Pescara e Teramo, annunciando le modalità e lo svolgimento delle elezioni che vedranno coinvolti i sindaci e consiglieri comunali in carica. Contrariamente a quanto si dice, dunque le province ci sono ancora, esordisce Di Giuseppe Antonio, che è anche presidente dell'Unione delle Provincie d'Abruzzo. Non sono stati aboliti, ma stanno continuando a lavorare tra mille difficoltà e con pochissimi fondi, considerati i tagli operati da Stato e Regioni. In questa fase, aggiunge Di Giuseppe Antonio, la confusione regna sovrana nella riorganizzazione degli enti locali. Ciò che è stato eliminato fino ad oggi è solo il voto popolare, ovvero i cittadini non potranno più scegliere il loro presidente e i loro consiglieri. Voteranno i sindaci, i consiglieri comunali, sono candidabili alla carica di presidente della provincia, i sindaci del territorio della provincia, solo per questa volta i presidente della provincia e i consiglieri provinciali uscenti. Ciascuna provincia dovrà eleggere il presidente e 12 consiglieri provinciali. Però c'è la riforma costituzionale in corso di esame da parte del Senato che prevede l'abolizione totale delle province. Qui c'è un po' una situazione schizofrenica. Da un lato si fa tornare le province al voto, seppur di secondo livello. Dall'altro c'è il Parlamento che ha messo mano alla riforma costituzionale e prevede l'abolizione delle province, prevedendo un po' un surrogato delle province che sarà un po' in qualche modo stabilito dalle regioni, che dovrà questo ente nuovo governare l'area vasta. La riforma del Rio è dunque bocciata senza appello perché ha generato un vero e proprio caos amministrativo, dicono i presidenti uscenti delle province abruzzesi. Non tiene conto delle esigenze reali del paese e mantiene in piedi gli sprechi tuttora esistenti in altri enti. Le elezioni di secondo livello del 28 settembre non riguarderanno la provincia aquilana, dove si voterà a fine mandato, dunque a primavera 2015. La legge del Rio ha abolito praticamente il voto popolare.